Ora passiamo a definire gli odds ratio e prima di definire gli odds ratio bisogna definire che cos'è l'oz. Se un evento si verifica con probabilità p allora l'oz in favore dell'evento è p diviso 1 meno p a 1. Se andate a giocare alla roulette vedete che una casella su cui si può giocare è l'oz. Vediamo un caso pratico. Se ad esempio un evento si verifica con probabilità 3 quarti allora l'oz è dato da 3 quarti quindi p è uguale a 3 quarti 1 meno 3 quarti fa 1 quarto quindi 3 quarti diviso 1 quarto fa 3. Significa che la probabilità che l'evento si verifica è 3 volte superiore rispetto alla probabilità che l'evento non si verifica. In questo caso si dice che l'oz in favore dell'evento è 3 a 1. Che cos'è l'oz ratio? L'oz ratio è una misura utilizzata per confrontare il rischio di malattia in due gruppi differenti. È definito come l'oz della malattia tra i soggetti esposti fratto l'oz della malattia tra i soggetti non esposti. Ora in pratica vediamo dalla definizione dell'evento come si arriva a calcolarlo. Sono dei processi abbastanza complessi ma una volta definito come si calcola l'evento è molto semplice farlo nel senso che adesso vediamo tutti i vari procedimenti che dalla definizione portano al loro calcolo. Una volta che l'abbiamo visto una volta applichiamo direttamente il calcolo. Quindi abbiamo detto che l'oz ratio è dato dall'oz della malattia tra gli esposti diviso dall'oz della malattia tra i non esposti. Questo significa che sono la frequenza condizionata della malattia all'esposizione diviso 1 meno la frequenza della malattia all'esposizione e il denominatore è dato dalla frequenza della malattia sapendo che non si è esposti fratto 1 meno la frequenza della malattia sapendo che non si è esposto. Considerando i dati in una tabella di contingenza 2x2 generica si ha questa situazione. Si hanno le modalità dell'essere malato che si divide in malato e non malato e le modalità dell'esposizione esposto e non esposto. Quindi diciamo che ci sono in un campione di n soggetti ci sono a individui che sono malati ed esposti mentre b individui che sono malati e non esposti ci individui che sono non malati ma esposti e di individui che sono non malati e non esposti. Ci sono i totali marginali di riga e di colonna e come sapete qui c'è la totalità campionaria n. Ora per calcolare l'host ratio dobbiamo fare quel rapporto che abbiamo appena definito. Quindi prendiamo prima il numeratore. Il numeratore era l'host della malattia tra gli esposti. Quindi dovrò calcolare la frequenza della malattia sapendo che è esposti diviso 1 meno frequenza della malattia sapendo che sono esposti. Quindi frequenza della malattia sapendo che è esposti è proprio la frequenza condizionata. Fisso la colonna degli esposti prendo la cella che mi individua la malattia quindi la cella che contiene A lo divido per il totale di colonna A più C quindi la frequenza è A diviso A più C. Ora questa quantità 1 meno frequenza della malattia degli esposti è 1 meno A fratto A più C. Faccio il minimone multico ed ottengo che il risultato è C diviso A più C. Analogamente faccio per il denominatore della definizione di host ratio ovvero l'host della malattia tra i non esposti. Quindi dovrò calcolare la frequenza della malattia tra i non esposti. Fisso la seconda colonna della tabella di contingenza prendo la malattia in quella cella che è individuata da B lo divido per il suo totale di colonna che era B più D quindi questa frequenza è data da B fratto B più D mentre 1 meno questa frequenza è 1 meno B su B più D faccio il minimone multico e il risultato è D diviso B più D. Quindi riprendendo la dimensione di host ratio e sostituendo tutte e quattro quelle componenti all'interno della formula sia alla fine che il host ratio in una tabella di contingenza 2 per 2 è dato dal prodotto incrociato ovvero A per D diviso B per C. Quindi prendo la prima cella e la moltiplico per la quarta cella e divido per la seconda cella che moltiplica la terza. Ok? Quindi il prodotto incrociato. Vediamo qual è l'interpretazione del risultato dell'host ratio. Una volta che ho una tabella di contingenza 2 per 2 e calcolo col prodotto incrociato l'host ratio ho un risultato. Che cosa significa questo risultato? Teoricamente l'host ratio è un numero che varia tra 0 e più infinito. Quando l'host ratio è uguale a 1 significa che c'è un'assenza totale di associazione tra la malattia e l'esposizione. Infatti l'host di malattia tra gli esposti è uguale all'host di malattia tra gli non esposti. Il numeratore e il denominatore sono uguali. Se l'host ratio invece è minore di 1 allora si dice che c'è un'associazione negativa. Cioè addirittura il fattore di esposizione può essere protettivo rispetto alla malattia. Se invece l'host ratio è maggiore di 1 significa che il numeratore è maggiore del denominatore e quindi l'associazione è positiva e il fattore di esposizione può causare o può essere con causa della malattia. Questa è l'interpretazione che nella norma si dà al valore dell'host ratio. Quindi se l'host ratio ha un valore compreso tra 0 e 1 si ha un'associazione negativa. Quindi come abbiamo detto addirittura l'esposizione può proteggere dalla malattia. Se l'host ratio è uguale a 1 c'è un'assenza di associazione il numeratore e il denominatore sono uguali e quindi non c'è alcuna associazione tra l'esposizione e la malattia. Per un valore di host ratio compreso tra 1 e 1,3 c'è una debole associazione. Tra 1,3 e 1,7 c'è una moderata associazione. Per uno stress maggiore di 1,7 e minore di 8 c'è una forte associazione e sono già pochi i casi in cui si verifica un valore di host ratio compreso tra questi due limiti. Mentre un valore dell'host ratio tra gli 8 e i 20 significa proprio che l'esposizione causa la malattia e quindi una fortissima associazione tra i malattie di esposizione.